Antonio Luciani, sindaco di Francavilla, questa tornata elettorale a livello nazionale non è andata così male per il suo partito, il Partito Democratico, che comunque è riuscito a mantenere tre regioni. In Abruzzo le cose non sono andate così bene, eccezione forse a Chieti dove Diego Ferrara è riuscito ad arrivare per un soffio al ballottaggio, però il PD prende il 6%. Qual è il suo commento? Il mio commento innanzitutto è che io sono un simpatizzante attualmente del PD perché il PD evidentemente non mi ha voluto al suo interno, quindi per ora mi definisco un simpatizzante. Il mio intervento è quello di un'analisi assolutamente impietosa con il PD che si attesta al 4% di una città importantissima per l'Abruzzo, quale Avezzano, e si attesta al 6% come supporto al candidato Diego Ferrara che va al ballottaggio. Ora io penso che anche l'ultimo degli addetti ai lavori possa capire che sono percentuali di un partito che è morto, che non esiste più, perché queste percentuali sono percentuali assolutamente non competitive, non valide per il supporto alla politica. Quindi devo prendere atto che mentre il PD rinasce a livello nazionale, con la Toscana, con le buone percentuali, anche nelle Marche dove abbiamo perso, dove il centrosinistra ha perso, in Abruzzo si è regalata praticamente all'inconsistenza, all'inesistenza. Questo per scelte politiche di una classe politica abruzzese che ora deve pagare il conto di tutto questo. Il PD è andato male anche ad Avezzano, lo ha detto lei, proprio la città del segretario regionale Michele Fina che ricopre quel ruolo per cui si era proposto anche lei. Sì, poi questo è un dato veramente abnorme, la città del nostro segretario regionale ha la percentuale più bassa, addirittura tra le più basse, quindi il segretario regionale che dimostra una completa non empatia con la propria gente, che invece ieri al posto di fare un'analisi, un mea culpa, si presenta nelle reti televisive di qualche emittente privata e addirittura come trionfatore dicendo che le elezioni sono andate bene, che stanno andando bene e che tutto sommato va tutto bene. Ora io mi rivolgo alla comunità di centrosinistra, mi rivolgo veramente a tutte quelle persone che danno il sangue per questa comunità e non si può, non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa perché non è giusto che il nostro abruzzo di centrosinistra sia ridotto in queste condizioni. Secondo lei ora Michele Fina dovrebbe dimettersi? Avrebbe già dovuto farlo ieri, mi meraviglia che non l'abbia ancora fatto e mi meraviglia ancora di più che qualcuno dai vertici del partito non intervenga per commissariare almeno questo partito.